Primi due mesi di scuola come reggente dell'Istituto Fantoni di Clusone, come sta andando? Sta andando bene, stiamo lavorando, stiamo costruendo alcune attività importanti che hanno il fine di erogare sempre al meglio il servizio scolastico. Altre attività progettuali stanno avendo un discreto successo, devo dire. Questo veramente ci rende contenti, devo dire. Vedo che gli sforzi dei docenti della scuola stanno ottenendo il giusto riconoscimento. Mi riferisco per esempio al progetto fixo. Stiamo accompagnando tanti giovani diplomati dietro la porta delle aziende per poter sperimentare un tirocinio di sei mesi in azienda. Speriamo che sia propedeutico proprio all'impiego professionale dei nostri studenti. Dicevo, gli sforzi dei docenti stanno ottenendo il riconoscimento da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, da Regione Lombardia, da Italia Lavoro perché l'esperienza del Fantoni risulta essere la prima in Lombardia per quanto riguarda gli esiti. Tant'è che siamo stati invitati come scuola a partecipare ad un convegno organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale e anche al Job Orienta di Verona. Saremo lì proprio a portare questa esperienza su richiesta proprio di Regione Lombardia. Quanti sono i ragazzi coinvolti finora? Al momento sono 22 già fixati, noi diciamo, quindi che sono già in azienda. Contiamo di, entro la fine dell'anno solare, di arrivare a 40 studenti.